9 ottobre per Global Project in diretta da Roma è partita adesso lo spezzone della coalizione dei centri sociali composta dai centri sociali del nord-est, Mila Romagna, Marche, Napoli e Milano un grosso spessone che sta attraversando le vie centrali di Roma per raggiungere poi il concentramento di questa grande manifestazione manifestazione lanciata dai movimenti per le occupazioni e le riappropriazioni delle case una giornata che verrà attraversata anche dalle lotte ambientali come quelle nottave e non muos e farà un percorso partendo da piazza San Giovanni per poi raggiungere la porta Pia attraversando lungo la strada tre ministeri